Il gruppo di Catania Carlo Cannella ha rinviato a giudizio 11 persone nel procedimento scaturito da un'indagine dei carabinieri su incarichi nell'ambito di progetti finanziati e approvati dall'assessorato alla salute della regione siciliana e attribuiti, secondo l'accusa, predestinati o congiunti di chi predisponeva i bandi ad hoc con esami pilotati. Tra loro c'è l'ex assessore regionale alla salute e neoparlamentare europeo di Fratelli d'Italia Ruggero Razza, indagato perturbata a libertà di scelta del contraente per la nomina di un professionista per un progetto da circa 10.000 euro. Per lo stesso tipo di reato contestato è stata emessa sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto per l'ex assessore regionale al lavoro Antonio Scavone, che si era dimesso dall'incarico di medico dirigente dell'ospedale di Catania in cui lavorava. Rinviati a giudizio invece Ignazio Igo Lamantia, ex presidente dell'Ordine dei Medici e Giuseppe Arcidiacono, dirigente medico dell'ospedale Garibalti ed esponente di Fratelli d'Italia che si era candidato a sindaco di Catania per poi ritirarsi. A giudizio pure Alberto Bianchi, Filippo Di Piazza, Sebastiano Felice Agatino Ferlito, Rosalia Maria Leonardi, Eugenio Pedullà, Ernesto Guido Rapisarda, Francesco Lorè e Daniele Sorelli. Il gruppo ha emesso la sentenza del processo del rito abbreviato e condannato Aldo Missale, ex direttore amministrativo dell'Ordine dei Medici di Catania, accusato di corruzione a sei anni e otto mesi di reclusione e il medico Calogero Grillo, accusato di turbativa d'asta a otto mesi per quest'ultimo esecuzione con pena sospesa. Missale è stato condannato anche al risarcimento delle parti civili, le aziende ospedaliere Policlinico e Garibaldi. L'Ordine dei Medici è una parte lesa da liquidarsi in separata sede, fissando una provvisionale da 30.000 euro ciascuno.